sin dall'età della pietra il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g a cura dvb attualmente l'umanità è scossa e spaventata dal terrorismo islamico perché dovreste conoscere bene avere familiarità col terrorismo se non altro per quel poco che avete appreso fin dall'infanzia per esempio prendiamo quella microscopica parte della storia umana che vi è stata insegnata sin dall'età della pietra l'uomo è sempre stato un terrorista i popoli più antichi per ragioni di sopravvivenza o territoriali si sono fatti atrocemente guerra guerra uguale terrorismo proseguendo il cammino terrorismo è stato il nazismo terrorismo è stato il boscevismo terrorismo sono certe religioni che come la cattolica schiavizzano le menti con feroci torturanti anatemi terrorismo fu quello di chi strappò dal proprio habitat dalla propria cultura tanti poveri negri per ridurli in schiavitù per secoli e secoli terrorismo sono stati i fatti orribili che si sono verificati per esempio in cina in quella piazza che ha visto immolarsi migliaia di giovani terrorismo è stata la bomba che ha distrutto ad hiroshima migliaia di creature terrorismo è quello che condanna bimbi malati innocenti a morire per mancanza di soccorso come in iraq mentre i capi del terrorismo sprecano le ricchezze nazionali in armamenti terrorismo è stato il fascismo con le squadre che deportavano la gente che trascinavano in piazza la popolazione di interi paesi per uccidere tante creature innocenti terrorismo è in angola terrorismo è in bangladesh terrorismo nel corno d'africa nello zaire terrorismo in ogni parte del mondo non c'è solo il terrorismo islamico il terrorismo è una piaga nel cervello dell'uomo che inquina altri esseri ignoranti che alimenta i più deboli col veleno delle parole delle menzogne del suo stesso odio e solo per tornaconto non mettete su un piedistallo questo o quell'altro capo di governo e ricordatevi che dietro le belle parole o le minacce c'è sempre l'interesse politico personale il vero unico maestro e il vero unico condottiere stato cristo non date ascolto neppure a chi oggigiorno pretende di rappresentarlo purtroppo pochi sono i degni rappresentanti anche della chiesa cristiana ricordatevi che anche la religione può essere terrorismo quando viene interpretata e praticata per certi fini è in mala fede sotto lo stimolo del desiderio di conquista di rivalza di supremazia non si può imporre nessuna religione la fede è qualcosa che deve nascere dal di dentro non deve essere imposta da chi che sia solo allora è vera fede termino dicendo che se può consolarvi molti altri mondi in questo periodo sono terrorizzati da fatti di violenza non soltanto il vostro troppi insegnamenti errati circolano nei vari cerchi figli unitevi unitevi non nella preghiera tradizionale ma in quella che può sgorgare dal vostro cuore il cielo non ha bisogno di invocazioni e di salmi per innalzarsi perché già al di sopra sono i vostri cuori vostri animi che devono elevarsi eppure se il tenero gesù non nacque nel periodo e nel giorno che voi festeggiate per tradizione io vi auguro di raccogliervi la notte del santo natale in amore nel calore nella fiamma di un amore veramente fraterno a voi figli pace pace acronimo di perdono d'amore di carità ed uguaglianza girolamo savonarola